Ciao, benvenuti a casa mia! Ciao a tutti, mi chiamo Anna Maria Bevilacqua. Il nome del mio blog è About My Bakery e ho scelto questo nome perché è un acronimo che riprende le iniziali del mio nome, AMB, e quindi sono particolarmente affezionata al nome che ho scelto. Ho aperto un blog perché mi piace cucinare e mi piace condividere con gli altri la mia passione e visto che sempre tutti i miei amici mi chiedevano le ricette che facevo per fare un determinato dolce, una determinata pietanza, ho iniziato a scriverle su internet per fare in modo che tutti le potessero trovare. Che bello, ho raggiunto 5.000 mi piace! Sono nata a Battipaglia e vivo qui con la mia famiglia anche se presto mi trasferirò a Salerno e sulla mia ultima torta ho spento 23 candeline. Non ho ancora iniziato a lavorare perché studio fuori a Milano e sto per laurearmi in economia. Quando finirò di studiare finalmente troverò un lavoro e vorrei trovare un lavoro che mi permetta di coincidiare sia i miei studi sia la mia passione che è quella per la cucina. Mi è sempre piaciuto cucinare fin da quando ero molto piccola, mia nonna e mia mamma sono molto brave, quindi credo sia una cosa genetica. Soprattutto però internet mi ha aiutato molto a spronarmi e a farmi avere la voglia di provare sempre ricette nuove e a cambiare sempre quello che faccio. Non ho mai fatto corsi di cucina anche se mi piacerebbe farli, infatti quando finirò gli studi inizierò a fare corsi di cucina per perfezionare quello che già so fare. Mi piace fare la spesa, adoro farla e vado in tutti i generi di negozi. Di solito vado al supermercato o anche al mercatino sotto casa per trovare la frutta e verdura le uova più fredde. Il piatto preferito è la pizza, amo mangiarla in ogni sua forma ma in realtà quello che so cucinare meglio sono i dolci, sono sempre stata brava a farlo e credo di essere portata per questo. In cucina mi piace sperimentare ma in realtà sono sempre legata alla tradizione, nel senso che parto da piatti della tradizione per poi cambiare o fare qualche variante che mi viene al momento improvvisare. Amo i lievitati, amo i dolci di tutti i generi e quindi se venite a cena da me vi farò trovare un banchetto, un buffet pieno di dolci, di pizzette e di vari lievitati. Ok, allora iniziamo a cucinare!